... Mercoledì 4 dicembre, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV sul canale 17. Come sempre, ogni mattina alle 7 siamo in diretta, ma ci sono anche le repliche nel corso della giornata, per dare un'occhiata ai giornali e lo faremo tra un istante. Prima il santo del giorno, la santa anzi del giorno, perché abbiamo deciso tra i vari santi di ricordare Santa Barbara, Santa Barbara che è la protettrice dei vigili del fuoco, degli architetti, degli artificieri, artiglieri, dei campanari, degli ingegneri ambientali, dei marinai, dei minatori, dei muratori e degli ombrellai. Beh anche, e non dimentichiamolo, la Chiesa oggi ricorda questo, è una teologia anche del giorno San Giovanni Damasceno che è dottore della Chiesa. Il sole sorgerà alle 7.24 e tramonterà oggi pomeriggio alle 16.32. Secondo il bollettino invece della protezione civile delle Marche, oggi il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con nuvole medio-basse e con diminuzione della nuvolosità nel pomeriggio. Non pioverà, però le temperature abbastanza rigide in queste ultime ore saranno in diminuzione soprattutto quelle della notte e ce ne siamo accorti. I venti soffieranno di brezza tesa, moderati lungo la costa, mentre per la giornata di domani ancora cielo nuvoloso con al mattino aumento della copertura, soprattutto invece nel pomeriggio. Poi deboli isolati piovaschi sempre nel pomeriggio, anche se qui non vengono indicati nella grafica, ma ci sarà appunto la possibilità domani pomeriggio di qualche pioggia limitatamente alle ore centrali. Attenzione alle foschie e banchi di nebbie nelle ore più fredde della giornata. Il tempo invece peggiora venerdì 6 dicembre, quando avremo deboli piogge più probabili nelle zone di montagna, ma in estensione poi, come vedete, anche lungo la costa. Stabile, il tempo sarà nel fine settimana con probabile debole peggioramento per la giornata di lunedì. Tante sono le pagine che questa mattina sfoglieremo nel corso dei prossimi minuti, quindi cominciamo subito a dare un'occhiata alle pagine principali. Questa è l'edizione di Pesaro del resto del Carlino. Venite qui, le case costano un euro. È l'iniziativa intraprendente, anche molto bella, del sindaco giovane, 35enne di Cantiano. Parliamo di un paese che si trova al confine con l'Umbria nella provincia di Pesaro e Urbino. Cantiano che cerca di rivitalizzare questo paese, che ha più o meno circa 2000 anime, ma sono rimasti in pochi, tantissime sono le case ormai da ristrutturare, un centinaio appena i bambini. Il sindaco dice che dobbiamo salvare il paese e arrivano richieste da tutto il mondo. Poi cercheremo di capire che cosa significa che le case costano un euro. Non è proprio esattamente così. La scalata di Nibali, invece, è la fotonotizia con il testimonial delle Marche che è a Urbino e che, insomma, dice qui è tutto bellissimo. Andiamo a vedere la pagina di Ancona. Ancona, questa mattina, le pagine del resto del Carlino sono tre dedicate alla strage di un anno fa, la strage dell'8 dicembre, la strage di Corinaldo, un'inchiesta e testimonianze a tre giorni dall'anniversario. Macerata, assalto alle poste, rapinatori armati di pistola, dipendenti e clienti chiusi in bagno, mentre sopra l'esplosione killer a Milano, 30 anni al vicino, i fidanzati morti. La Cassazione conferma lo sconto di pena per Giuseppe Pellicano. E le pagine interne, anzi no, la prima pagina del Corriere Adriatico, questa è l'edizione di Pesaro. In casa un tesoretto di cocaina, arrestato un insospettabile, ne aveva oltre mezzo chilo, l'uomo non si aspettava di essere scoperto. E a centro pagina, invece, ex carcere minorile, l'asta è un flop, non c'è stata nessuna offerta per il complesso messo in vendita dal Comune di Pesaro. Acquirente, invece, per l'ex farmacia Zongo, la voleva anche Bartorelli. Valle Foglia, padre e bimba travolti da un'auto, stavano camminando sulla strada. L'investimento a Montecchio con la piccola di poco più di un anno che è stata ricoverata al Salesi, l'uomo invece a Pesaro. Grande paura nel pomeriggio per padre e figlia che appunto sono stati investiti da un'auto. La piccola a poco più di un anno è stata portata al Salesi di Ancona in eleambulanza, mentre il padre è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Pesaro. Le condizioni di entrambi è il momento dell'investimento dei soccorritori, per fortuna non sono risultate gravi e sia il papà che la bambina erano perfettamente coscienti. L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio di ieri intorno alle 14.30. Meningite in gita, un profilassi per tutti. Un 73enne contrae l'infezione mentre è in vacanza alle terme di Bagno di Romagna con una comitiva di fanesi. Doveva essere un fine settimana rilassante alle terme, ma per una cinquantina di persone, tra cui tanti fanesi, si è trasformato in una mini vacanza da incubo con tappa obbligato in ospedale. Ora dovranno fare qualche giorno di profilassi con antibiotici potenti. Questi fanesi che nello scorso fine settimana sono andati alle terme di Bagno di Romagna con una 73enne di Senigallia che è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale per meningite. La donna si è sentita male in vacanza ed ora è tenuta in isolamento dai medici in una camera della Bufalin di Cesena, dove si trova da sabato scorso per via di una meningite batterica da meningococco di tipo B. E la diagnosi è arrivata in pochissime ore. Se ne parla anche nella pagina del Corriere del resto del Carlino di Senigallia. Ecco il titolo, si sente male in gita, meningite batterica. Una senigalliese di 73 anni è grave in ospedale a Cesena. Profilassi per i 50 del Pullman che erano insieme a lei a Bagno di Romagna. Ancora dal resto del Carlino, questa volta da Pesaro, dove si è svolta la conferenza stampa in questura dei dirigenti dei due commissariati di Fano e Urbino. Un fornaio, un uomo che di professione fa il fornaio e che il titolista gioca col fatto che il fornaio usa la farina e quindi polvere bianca, ma non è farina. In questo caso è stato arrestato uno spacciatore trovato con sei etti di cocaina purissima. La sua piazza era allo stadio Mancini, a San Lazzaro, a Fano, da cui riforniva tutta la vallata del metauro. Siete di cocaina purissima, dicevamo, mezzo chilo era nascosta in cantina, il resto nell'armadio in camera. Altri dieci grammi ce li aveva invece nella borsa della bicicletta, il mezzo con cui andava a portare la polvere nella sua pizza di spaccio, la zona dello stadio di Fano, nel quartiere San Lazzaro. Una zona che stava diventando il punto di riferimento per consumatori non solo locali, arrivando ad attirare decine di clienti da tutta la valle del metauro. Scrive questa mattina raccontando anche tutti i dettagli Elisabetta Rossi, l'uomo ha detto di essere in difficoltà economiche a moglie e tre figlie. Richiami illegali invece, cacciatori nei guai, usavano dispositivi elettronici, ma anche a lodole vive, per catturare specie protette, ingenti sequestri da parte del forestale. Ruba le offerte in chiesa, arrestato dai carabinieri, siamo sul Corriere, due militari si erano appostati, fingendo di pregare, contestati tre furti, e c'è anche un complice. Tutto è cominciato quando il parroco della chiesa di Santa Maria Goretti, a Sant'Orso, a Fano, si è accorto che stava sparendo del denaro, delle offerte. Un fanese di 39 anni è stato così arrestato dai carabinieri, che si erano finti fedeli in preghiera, per scoprire chi si intascasse queste donazioni. Nella mattinata di ieri, il giovane uomo è stato processato in tribunale a Pesaro, con rito direttissimo e condannato a un anno e dieci mesi di reclusione, poi più una multa di 400 euro per furto aggravato e continuato. Al cimitero oggi si apre la bara, invece del Beato Antonio, l'intervento disposto dalla PM per capire chi c'è dentro. Quindi verrà aperta al cimitero dell'Ulivo, questa bara che è stata rinvenuta in una intercapedine tra la chiesa di Santa Maria Nuova e il convento dei frati minori francescani. Sarà così risolto il mistero della sepoltura del Beato Antonio da Fano, che visse nel XV secolo, quindi intorno al 1400, le cui reliquie custodite fino alla fine degli anni 50 erano all'interno della chiesa e furono spostate dall'allora priore del convento, padre Francesco Talamonti. Ebbene, seppure il nome del priore è ben evidenziato in un epigrafe affissa sulla bussola d'accesso all'edificio che ricorda i lavori di ristrutturazione che furono eseguiti all'epoca, il ricordo del Beato Antonio della sua nuova sepoltura si era però quasi perso. Solo padre Silvano Bracci ne conserva la memoria storica. Ed è stato proprio lui a indicare quella intercapedine, quel punto esatto dove i muratori erano stati invitati ad aprire, a scavare, a buttare giù quel muro per capire, per vedere se realmente era lì. E quando è venuta fuori questa barra insomma c'è stato stupore e poi chiaramente lo stupore è aumentato nell'attesa di scoprire. L'attesa è aumentata per vedere chi c'è dentro questa barra. E oggi lo sapremo, questa mattina e questa sera cercheremo di raccontarvelo nel corso del telegiornale. Ecco le pagine interne, una sola ve ne faccio vedere, le altre due le lasciamo a voi per chi acquisterà il giornale questa mattina. Il titolo è Ore 2, caos e shock. Parliamo della strage di Corinaldo con questa immagine straziante, terribile, di questo telo bianco a terra e il corpo e la... e questo uomo che abbraccia abbraccia la figlia. Quella maledetta notte alla lanterna tra teli bianchi, paura e disperazione, la testimonianza del nostro cronista tra i primi ad arrivare sul posto l'8 dicembre, quando ancora non si capiva cosa fosse successo. Il primo tragico anniversario, quello tra pochi giorni. Ricordiamo ancora, ricordo ancora, quando arrivarono i primi messaggi, i primi sms, i primi whatsapp, non si capiva davvero cosa stesse succedendo a pochi chilometri da noi. Poi, man mano che passavano le ore, si diventava tutto più chiaro. Ai familiari corsi davanti al locale il drammatico rito del riconoscimento dei corpi dei figli. Condannati i ladri di pile cacao. Andiamo avanti. Tentato furto all'Ocean di Fano, i due Roma avevano fatto incetta di pile Duracell e di pocket coffee. C'è stato il processo per direttissima. Il giudice ha stabilito, ha condannato i due, due Roma, a sei mesi di reclusione e revoca della misura del divieto di dimora nelle Marche a una donna di 41 anni e al complice quattro mesi invece, un complice 26enne incensurato. Un po' come il Natale, ogni anno arriva puntuale il dibattito su le auto sì oppure auto no nel centro storico di Fano. Ed ecco qua, a ridosso del Natale, l'articolo sul resto del Carlino che riguarda appunto le auto via dal centro. I commercianti sono divisi dopo l'annuncio dell'assessore Tonelli sul progetto di riqualificazione che punta a recuperare spazi per i pedoni. Intervengono gli operatori di Piazza Andrea Costa, perplessi gli ambulanti che dicono che fine faremo ma c'è anche chi si mostra possibilista. Intanto, di sicuro, sono contrari alle auto via dal centro storico di Fano. sono le associazioni di categoria che insorgono, sono la Confcommercio e la CNA che attaccano l'assessore e dicono nessuna modifica senza parcheggi e infrastrutture. Vogliamo far ripartire l'area industriale? Questo è un interessante articolo. Se abitate a Bellocchi di Fano andate in edicola e comprate il Corriere Adriatico perché ci sono molte cose interessanti su questo articolo che porta la firma di Lorenzo Furlani. Si parla dell'impianto per rifiuti che per questa società per questi industriali Emilio Berloni che guida la Fox Petroli e il consorzio per l'urbanizzazione delle aree in località attorno a Fano così come Roberto Pietrelli dicono per noi l'impianto può essere un'occasione e ha chiesto 20 giorni per incontrare il sindaco Massimo Seri. Emilio Berloni dicevo industriale alla guida della Fox Petroli parla a nome di questo consorzio di cui è presidente 20 giorni fa l'assemblea del consorzio che riunisce i proprietari dei 60 etteri previsti come zona di espansione dell'area industriale di Bellocchi già dalla giunta del sindaco Carnaroli ha deliberato all'unanimità una proposta per sbloccare l'impasse amministrativa e la collocazione tornando a parlare di gestore anaerobico la collocazione naturale per Aset sarebbe appunto a quello di Bellocchi per Aset la zona produttiva è la collocazione naturale di questo impianto per la produzione del biometano che è uno stabilimento industriale necessita di un'ampia area funzionale per la gestione del rifornimento dei mezzi aziendali con quel carburante ma sul piano politico rimbalza anche l'ipotesi di una contrarietà di Paci della Profil Glass che avrebbe mire su quell'area invece per l'ampliamento della sua azienda Farmacia Zongo andiamo a Pesaro perché nella sala rossa del comune di Pesaro si è svolta un'asta per la vendita al migliore afferente di alcuni gioielli dell'amministrazione tra questi anche l'ex Farmacia Zongo che si trova in via Branca che confina proprio con le rinnovate vetrine del lusso che portano la firma di Paolo Bartorelli ora non è un immobile grande anzi i metri calpestabili sono 90 metri quindi non è non è moltissimo però insomma è abbattuto tutti Bartorelli in volata e quindi il gioielliere ha presentato quest'offerta però i 90 metri quadrati se li è aggiudicati un pesarese che è residente all'estero e che ha vinto con 352 mila euro la seconda offerta si è fermata invece a 331 mila 21 mila di meno di quello che si è aggiudicata e restando in farmacia c'è questa notizia che scrive questa mattina il resto del carlino per le famiglie in difficoltà arrivano i medicinali gratis li doneranno le farmacie comunali di Pesaro saranno a disposizione al centro di ascolto di via Passari e poi prezzi scontati per l'ambulatorio Caritas parliamo di quelle famiglie di quei bisognosi che hanno che hanno bisogno di queste farmacie che non hanno che di questi medicinali che purtroppo non hanno però soldi per comprarli sono stranieri ma anche italiani che vivono separati dalla loro famiglia e non avrebbero modo comunque poi di curarsi perché non hanno i soldi per acquistare le medicine dunque è fondamentale oltre alla diagnosi e alla presa in carico fornire loro anche i farmaci e Pietrelli direttore della Caritas dicono dice aumentate sono aumentate le richieste d'aiuto per problemi di salute ricorderete qualche tempo fa in Piazza del Popolo a Pesaro sono stati fatti dei controlli per il diabete l'associazione guidata da Paolo Muratori adesso ha tirato le somme e lancia un appello perché? perché tra le 1200 persone che sono state monitorate in quell'occasione tra coloro che sono andati lì per farsi fare il prelievo per vedere un attimo com'era la situazione ebbene sono stati individuati 98 nuovi casi di diabete e quindi tutte queste persone sono state poi indirizzate ai medici di base si tratta di uomini ma soprattutto di donne di età superiore ai 50 anni anche se non sono mancate le persone in età più giovane che hanno scoperto grazie a questo controllo di essere state colpite dalla malattia mercatone 1 parliamo di economia di lavoro 14 offerte per acquisire questi grandi magazzini che adesso sono chiusi del mobile ma i tempi sono lunghi lo stabilimento di Pesaro rientra tra quelli attenzionati 27 dipendenti sperano di ritrovare il posto di lavoro c'è quindi una buona notizia come si dice una buona e una cattiva la buona notizia è che ci sono 14 come dicevamo manifestazioni di interesse che riguardano però solo 44 dei 55 punti vendita totali ma Pesaro rientra nella lista delle località attenzionate quella cattiva è che i commissari si sono presi 6 mesi di tempo quindi fino al 23 maggio 2020 per trasformare queste manifestazioni di interesse in una o più acquisizioni attraverso le quali salvare circa 1700 posti di lavoro di cui 27 come dicevamo a Pesaro e che sono in cassa integrazione a zero ore medici e infermieri aggrediti dobbiamo tutelarci e dobbiamo anzi tutelarli di più perché parla Federico Taleca è consigliere regionale con la delega della sanità e che presenta una nuova proposta di legge dopo il caso avvenuto in città le aziende sanitarie devono salvaguardare da ogni punto di vista i loro lavoratori a Palazzo Ducale Urbino cambierà volto e dice Peter Aufreiter che ormai è un ex ma dice insomma vedrete quanto sarà bello e lascia quindi in eredità al suo successore il progetto di questo nuovo allestimento firmato dal grande architetto Italo Rota le prime sale racconteranno chi erano in Montefeltro la storia dei duchi e la vita di Raffaello andiamo nella pagina delle marche perché nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di quell'invito lanciato ve l'avamo fatto vedere e sentire anche nel corso del telegiornale di qualche sera fa l'invito lanciato da Lanci l'associazione che riunisce i comuni italiani l'invito al presidente Giuseppe Conte il premio scusate Giuseppe Conte di mettere mano al portafogli e soprattutto di alzare le indennità di quei sindaci che governano quei piccoli paesi anche sotto i 3.000 abitanti 3.000-4.000 abitanti ma che hanno le stesse responsabilità e pagano in caso di inadempienze e quant'altro come se fossero sindaci di grandi metropoli ebbene le responsabilità sono le stesse allora che cosa è successo la notizia di oggi è che gli stipendi di questi sindaci che governano piccole città aumenteranno un reddito cosiddetto di dignità la commissione finanza la camera ha approvato infatti il provvedimento che è stato presentato indennità fino a 1.500 euro netti gli impegni non stop come le grandi città dicevamo appunto allora nel riquadro che pubblica il Corriere Adriatico c'è la situazione nelle Marche nelle Marche ci sono 228 comuni 124 sono quelli sotto i 3.000 abitanti 31 sono nella provincia di Macerata 30 sono sotto la provincia di Pesaro 29 a Fermo 19 Ascoli 15 ancora ora per esempio qui parliamo di cifre lorde gli importi lordi per chi amministra una città che ha da 50.000 a 100.000 abitanti quindi rientrano sia il sindaco di Fano che quello di Pesaro Ricci il sindaco di Fano Seri e Pesaro Ricci prendono 4.130 euro lordi mentre l'unica nelle Marche che prende 5.010 euro è la sindaco di Ancona sindaco di Ancona che ha sopra i 100.000 abitati quindi prende 5.000 euro lordi la politica il silenzio del PD il silenzio del PD sul Ceriscioli bis venerdì la verità in direzione ci sono dei dubbi sulla ricandidatura del governatore Busilacchi di Leudice l'hanno scaricato ormai e il Movimento 5 Stelle ribadisce occorre discontinuità come dire occorre un nuovo candidato per la carica di governatore della regione e sempre dalla pagina della pagina che riguarda appunto questa questa candidatura la spaccatura sul decreto sisma con Gostoli e Morani lascia presagire area di bufera insomma Gostoli aveva stoppato un po' l'aveva stoppato Ceriscioli così come la Morani si era un po' risentita delle parole sul decreto del governo personale e utenti al freddo da 20 giorni agenzia delle entrate rischio e chiusura il sindaco sindacato scusate nazionale denuncia una lunga serie di disagi mai risolti ci insinuano il sospetto siamo nella pagina di Urbino bike park delle Cesane 150 mila euro arrivano dalla regione l'impianto di bitumazione a Fossombrone suscita timori e perplessità i residenti di Ghilardino meditano la richiesta di un incontro urgente con la giunta a Bonce oltre un mese fa nell'incontro del sindaco con la cittadinanza non si è trattato di questo tema aggressioni al personale sanitario va tutelato chi lavora in trincea proposta di Federico Talè assistenza legale copertura economica e azioni di prevenzione crollano tegole mattoni su viale Cavour a Mondolfo si sgretola un antico palazzo nobiliare la strada adesso è stata transennata gravi danni alla montagna siamo a frontone con spreco di soldi pubblici nove associazioni ambientaliste contro l'impianto sciistico l'intero progetto mai sottoposto alla via cioè alla valutazione di impatto ambientale frana del frana di Bellisio Alto il merito è nostro Baldelli rivendica la titolarità dei lavori di messa in sicurezza risolto un grave problema e poi il sabato notte passiamolo in chiesa arriva da Senigallia l'invito della pastorale giovanile ad andare in chiesa fino alle 2.30 di notte perché le chiese la chiesa in questo caso quella che vedete nella nella fotografia sarà aperta fino al 21 dicembre prima di concludere la serata si può passare al portone la chiesa al portone quella che vedete appunto qui nell'immagine e mi pare che ci siamo abbiamo quasi concluso eccola qua casa ad un euro Cantiano attira il mondo il sindaco Piccini dice siamo andati fuori dagli schemi per salvare il paese 400 richieste di interesse da America e dall'Europa eccolo qua il sindaco nel 2019 ci sono state tre nascite contro 40 decessi gli ospizi gli unici due che sono presenti a Cantiano sono praticamente pieni mentre l'asilo è semivuoto appena lanciata in rete la proposta sono arrivati brasiliani argentini e danesi ora sul Carlino troverete le varie informazioni noi non abbiamo più tempo ci torneremo però su questa su questa cosa perché è interessante ovviamente le case sfitte sì le vendono a un euro ma entro sei mesi c'è l'obbligo di ricostruirle di ristrutturarle di rimetterle a posto è comunque una bella iniziativa l'informazione di prima mattina termina qui la rassegna è finita ci vediamo stasera alle 20 e 30 con il telegiornale occhio alla notizia e quello che vedete è il numero per le vostre segnalazioni arrivederci a presto alla prossima